Il numero di opere, quattro di Scilla, lo vanno dato in Masnadie, Luisa Knüller, Don Carlos contro le tre del nostro, mappe o tempo falsa, a ruota con due attestati, Hugo e Byron, Shakespeare è stato di gran lunga quello che ha influenzato maggiormente la concezione ideale e poetica di Verdi. Come è noto, Verdi più volte arrivano l'inunità di essersi avvicinato ai occhi del barco di Stettopold. Già dall'adolescenza, limitatamente alla possibilità che a ruota della provincia italiana ci poterlo essere di avere la disponibilità di una edizione in italiano delle sue opere, diffuso ed esaltato da un modo erogato dal romanticismo, in Italia Shakespeare doveva aspettare ancora alcuni decenni per iniziare a circolare regolarmente, anche per via di una certa diffidezza, dunque la cultura ufficiale prima o mai del prestigio di tempo, ma con un'intata labonia guardava nel genio inglese, pur sempre un barbolo agli occhi di chi sentiva discendente diretto della letteratura classica e di quei commentanti a petrarca a rinosto e tasso. L'idea di straver il melodramma dall'opera Shakespeareana iniziò ad interessarsi già di domani nel prionco scaligero del malucco.